buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale ora partiamo da euro dollaro che come si vede molto bene nel grafico è arrivato alla parità anzi ha fatto anche qualcosa in meno della parità e poi ha regalato diciamo tra la seduta di giovedì e quella di venerdì chissà magari un pattern reversal un pattern di inversione era evidente che al primo test della parità si sarebbe arrivati a un'ipotesi di rimbalzo questo sta accadendo non può stupire più di tanto diciamo che in qualche modo ci sta che l'euro possa tentare di rimbalzare certamente la parità è un livello significativo che crea anche molto stupore rimaniamo nel contesto delle diciamo così rimaniamo nel contesto delle valute per dire che è anche e sempre molto forte il dollar index quindi non è solo con l'euro che il dollaro manifesta la sua forza da quando c'è stato il breakout di queste 105 si è addirittura arrivati a fare dei massimi imponenti ben sopra 108 come vedete qui davvero molto interessanti e rimanendo nel settore delle valute in questo caso cripto diciamo che è in corso il weekend e continua l'ampio trading range sia sul sia sul bitcoin lo vediamo qua sia su eterium che possiamo vedere tra pochissimo anche qui praticamente la stessa cosa siamo abbastanza vicini alla parte alta dello stesso andiamo a dare un'occhiata anche al rendimento americano che come abbiamo visto tutte le volte che arriva sopra il 3 per cento ormai viene sistematicamente acquistato è già successo su questo spike e poi su questo e ora anche su quest'altro quindi attenzione c'è in area 2 75 circa il supporto più interessante in qualche modo quando si arriva su certi livelli si fa un po di switch quindi livelli considerati interessanti andiamo invece a vedere alcune commodities come petrolio oro che sono davvero molto particolari e molto interessante allora cominciamo dal petrolio che come vedete continua nel suo range 95 123 giusto per dire di quelli che sono i livelli limite però attenzione perché la scorsa settimana c'è stato anche il costo scivolone che lo ha visto arrivare praticamente sino 90 sino a quest'area di congestione qui sotto fa un po il paio con lo spike a 130 che c'è stato qui sopra stiamo a vedere il petrolio continua quest'area di lateralizzazione però attenzione perché si è davvero indebolito anche per i timori di una certa recessione chi oltretutto si è indebolito è senz'altro l'oro lo vediamo qua perché perché l'oro in una delle sue funzioni è decisamente antagonista del interest rate del tasso di interesse che determina poi i rendimenti dei bonds allora vediamo che il mercato si è molto avvicinato a questi 1680 che sono il minimo del post covido vedete qui tutte le volte che è arrivato su questo livello il mercato ha rimbalzato qui ci dobbiamo mettere un grosso un grandissimo punto di domanda perché non sappiamo ovviamente se il mercato sarà in grado di rimbalzare ancora da questo livello staremo a vedere ovviamente la parte alta la vediamo qua è quella che sta in area 2080 dove si vede molto bene diciamo così la resistenza sono anche i massimi storici passiamo ora al mercato azionario e partiamo dal smp 500 che indubbiamente presenta un grafico interessante 3.900 è la soglia a breve termine da superare va diciamo una seduta che porti a fare una chiusura intraday superiore a questo livello e allora il mercato può tornare a slanciarsi finché rimaniamo qua sotto siamo in una terra di nessuno dove si può tornare a ritestare i precedenti minimi così come è successo ora fermarsi su questo livello intermedio intorno ai 3.750 quindi 3.900 per l'S&P è l'area da monitorare ma direi che graficamente questo schema c'è più o meno su tutti gli indici c'è un po' più di forza sul nasdaq lo si vede a livello grafico rispetto agli altri indici il Russell diciamo così è un pochino più debole ma come vedete in entrambi i casi c'è un livello già testato un paio di volte che per ora ha respinto i corsi e vediamo se può invece tornare interessante da superare è la stessa dinamica che vediamo sull'indice Dow Jones lo vediamo qua rimaniamo invece l'europa dove l'ennesimo test di quell'area di supporto forte che diciamo così dettata dai 3.400 punti ha di nuovo prodotto una reazione si sta creando un supporto molto significativo e molto importante intorno a questi valori direi che ci siamo diciamo così che la situazione si fa interessante da questo punto di vista esattamente come sul dax dove l'area dei 12.400 12.500 400 punti si sta rivelando l'area di più forte supporto quella di monitorare con maggiore attenzione andiamo a vedere anche il fib che sull'annuncio diciamo così poi come dire tutto in divenire delle dimissioni di draghi per ora respinta da mattarella ma chissà dovremo vedere mercoledì ha fatto un ulteriore affondo arrivando praticamente col film a spiorare i 20.000 punti poi c'è stata la reazione di venerdì non siamo però tornati sopra i 21.000 insomma l'indice italiano complice questo timore dei mercati che draghi possa diciamo così tornare a fare altro e non più il presidente del consiglio e quindi si perda un pochino quel come dire quello spessore internazionale che la sua presenza dava comunque garantiva il nostro paese in termini di credibilità ecco che subito il mercato va in difficoltà e allora in un mercato che va in difficoltà andiamo subito a guardare alcuni titoli che potremmo ritenere tra i più interessanti non ce ne sono tantissimi in vero abbiamo visto ci sono in fondo è stata una settimana difficile ma tra questi c'è sicuramente ferrari che va addirittura a chiudere sopra i 190 191 diciamo così euro per azione fa 193 05 secondo me questo è il titolo che ha per questa settimana il grafico più interessante ma ci sono altri titoli che sono in pieno rimbalzo uno di questi stm siamo alle prese con quest'area dei 32 euro e 35 sopra quest'area c'è ancora spazio per i rialzi buono il recupero tra l'altro su un livello di supporto davvero interessante vediamo qua l'area dei 28 e 25 dove ha rimbalzato ci sono poi altri titoli come i farmaceutici che continuano nella loro fase così un po di ricostruzione di un prezzo interessante lo vediamo qua c'è un altro titolo che secondo me ha un grafico abbastanza interessante ed è interpump perché sta cercando di fare una base no lo abbiamo visto qui si è appoggiato più volte ai 35 30 ora se dovesse tornare sopra i 39 e 35 secondo me potrebbe dire la sua potrebbe di nuovo slanciarsi un po verso l'alto ci sono però anche altri titoli che a mio avviso stanno andando a cercare stanno cominciando quel lavoro di ricerca di un bottom tra essi c'è Pirelli lo vedete qui sta lavorando per cercare di capire se questo può essere un bottom rispettabile se questa può essere una situazione particolare non smette di piacermi campari che però chiude molto male la settimana lo vedete quindi ci può stare un pullback anche diciamo intorno all'area 10 9 90 stiamo a vedere che cosa può succedere peccato perché il grafico di campari andava decisamente a rialzo l'ultimo titolo da non dimenticare della nostra borsa che è un grafico con una certa appetibilità è senz'altro Leonardo lo vediamo qua mentre in difficoltà sono sia Enel che come abbiamo visto durante la settimana è stato spinto con decisione diciamo anche sotto i 5 euro che poi ha ripreso per i capelli ricordiamo però che lunedì stacca il dividendo quindi è importante questo e poi vediamo qua Eni che anche qui torna ad essere un titolo in grande difficoltà dopo la forte discesa però complice anche l'arrivo l'andare in porto diciamo così dell'aumento di capitale di Saipem chissà se questo test poco sopra i 10 50 che è un'area di resistenza importante possa dire la parola fine su questo ribasso insomma stiamo a vedere passiamo ora all'america dove c'è qualche titolo interessante io in cima alla mia lista più di tutti metto soprattutto apple perché secondo me apple ha un grafico molto interessante andrei a vedere proprio il dettaglio dell'ultimo periodo per capire che la potenzialità di questo titolo per chiusure sopra vorrei dire 150 ma devo dire 151 154 e mezzo sopra quel livello il titolo apre di nuovo scenari interessanti e secondo me dice il suo perché andiamo a vedere poi anche tesla che secondo me anch'essa un bel grafico interessante lo vediamo qua tesla che va in laterale però sta facendo una serie di minimi crescenti lo vediamo qua è vero che ha anche un po di massimi crescenti ma dovesse recarsi sopra questo livello ecco io ci vedo un po' una specie di triangolo informazione no e quindi attenzione perché tesla sopra questo livello tornerebbe senza dubbio interessante procediamo con i titoli americani degni di nota allora direi che il prossimo potrebbe essere unh andiamo a vederlo andiamo a cercarcelo perché potrebbe essere davvero interessante dal punto di vista grafico lo vedete qui il titolo è andato a farsi questa bella chiusura più alta di tutte le chiusure precedenti con volumi anche un pochino in crescita quindi questo è un fattore lo vediamo qua ha superato di slancio questo livello di resistenza quindi insomma chissà che non possa almeno estendere l'esito al test del precedente massimo relativo significativo lo vediamo qua un altro titolo che secondo me ha un grafico interessante è visa è un po un risveglio dopo un po di tempo di come dire un po così di riassegnazione su visa noi possiamo facilmente vedere che c'è una un trend ribassista che il titolo sta andando a testare ci sono dei livelli di resistenze abbastanza significative ma sopra quest'area ci può stare un bello strappo verso l'altro vediamo qua che potrebbe anche comportare chissà un movimento verso la parte alta di questo trading range che è molto particolare è molto interessante allora andrei a vedere qualche altro titolo che è interessante secondo me degli stati uniti tra questi c'è walmart che dopo avere come dire portato a compimento quello che stefano chiamerebbe l'accettazione di un prezzo lo vediamo qua il trading range ora si trova sulla parte alta chissà un movimento verso l'alto potrebbe una fuoriuscita potrebbe portarla magari addirittura a tentare di chiudere questo gap lasciato per tempo viceversa continueremo a vedere un trading range che la porterà ad andare avanti su questa sua falsariga altri due titoli che ho trovato secondo me degni di un certo interesse eccoli qua il primo è questo molson course che è un titolo del settore ovviamente delle delle bevande lo vedete qui del beverage eccolo qua allora diciamo che c'è stato un breakout di un livello importante tutta questa cosa sembra una specie di minimo arrotondato insomma una figura un po' particolare chissà se non dovessimo mai andare a cercare di trovarci questo massimo diciamo per strada un altro titolo che ha un grafico che non mi spiace lo vediamo qua pgr lo vedete qui perché non mi spiace questo grafico beh perché questo titolo sta decisamente insistendo su una trend line rialzista a un trend a rialzo marcato nel tempo a un po di resistenze su quest'area quindi si sta come secondo me conformando una figura di triangolo vediamo se il titolo vorrà mostrarci ulteriore rialzo da questo punto di vista minimale un ultimo titolo di cui voglio farvi vedere il grafico che è berkshire hathaway cioè diciamo eccolo qua un titolo che sta cercando anch'esso di trovare un bottom la figura che sta disegnando secondo me è una figura di triangolo dove esce come dire il movimento si delineerà in maniera netta quindi anche buffett coinvolti in questo bene per questa settimana è tutto alla prossima ciao